Ehi la ciurma e benvenuti in questo ultimo video di Valiant Hearts Sono sempre Mazetess e vedrete scorrere in sottofondo le immagini degli ultimi oggetti da recuperare Per chi volesse fare la soluzione del gioco, oltre agli oggetti che sono stati già recuperati nei video che ho caricato sul mio canale Potete trovare qua gli ultimi oggetti che non avevo trovato nella prima volta che ho affrontato i livelli Spero che questo vi sia chiaro, adesso mentre scorrereanno le immagini io farò un piccolo commento audio a una recensione Diciamo di come mi è sembrato questo titolo della Ubisoft Allora innanzitutto partirò subito dai Pro perché secondo me sono più i Pro che i Contro Questo è stato un gioco per me davvero valido Un valido titolo nonostante non sia uno dei titoli mainstream Ha avuto comunque visto un discreto successo anche su Youtube E' stato trattato da vari giocatori Ma andiamo subito ai Pro che secondo me sono tre principalmente Uno è il fatto che è stato da parte di Ubisoft un buon modo per ricordare Per ricordare questo triste e quanto celebre anniversario della prima guerra mondiale 1914 fino al 2014, questi cento anni Inoltre avendo comunque questo spessore che non è solito diciamo dei videogiochi Questo spessore anche di riflessione E' stato un buon modo dalla Ubisoft per commemorare anche le persone nel finale Poi soprattutto adesso non voglio spoilerarvelo Però c'è un ragionamento molto profondo su quello che è stata la guerra Su quello che è ancora attualmente la guerra E su quello che è stato in particolare la prima guerra mondiale Secondo motivo per cui è un valido gioco è che è formativo Uno ci si può mettere anche con i contributi sia degli oggetti Che comunque sono tutti oggetti, dei reperti effettivamente esistenti E presenti negli archivi, nei musei E sia con i fatti che vengono sbloccati attraversando i livelli E che narrano quello che è effettivamente stato la realtà Perché noi ci troviamo dentro lo gioco Ma in ogni istante ci viene ricordato che quello che per noi è un gioco La gente lo ha vissuto veramente E la gente non poteva ricaricare dall'ultimo salvataggio fatto La gente si trovava lì e se per caso ti cadeva una bomba di gas dentro casa Non è che avevi molto scampo Non è che potevi semplicemente dire Ah ok ricomincio il livello Ah ok dovevo fare quest'altro passaggio Ah ok schiaccio su, giù, destra e sinistra e resuscito il tipo Non è stato così Non è stato così E questo è comunque una cosa importante Perché non tutti i videogiochi attualmente Anzi pochi di essi sono così formativi Forse perché appunto un videogioco è concepito principalmente per staccare dalla realtà Per pensare a qualcosa di diverso Però non bisogna mai smettere di pensare completamente Non siamo delle macchine E il pensiero razionale serve Terzo pro Perché non voglio dilungarmi troppo Il video non durerà moltissimo È che non è banale Avrebbero potuto fare una cosa molto più banale Invece è stato comunque curato La grafica secondo me è proprio speciale Perché nonostante sia cartunesca Che tra l'altro è un cartoon Sullo stampo francese barra belga Se voi siete un po' esperti di fumetti Potrete notare questa somiglianza E oltre a questo Cioè nonostante ci sia questo stampo un po' cartunesco È uno stampo che secondo me descrive bene Senza appesantire troppo l'atmosfera Perché dobbiamo comunque ricordarci che è un videogioco Quindi non è che ci mette dentro Ha un ambiente differente Siamo comunque in quel genere Non siamo in un film Non siamo in un libro E questo ci viene ricordato E inoltre secondo me è stato molto importante Anche il genere di videogame che hanno scelto Perché non è che ci hanno messo in un FPS Entrando in un FPS ci saremmo trovati Nella situazione di Ah ah devo uccidere tutti per passare al livello Eh no Mentre la maggior parte delle volte Non bisogna uccidere nessuno Nei livelli di Valiant Hearts Anzi ci sono dei livelli che finiscono con il nostro arresto Con il nostro ferimento grave Con la nostra quasi morte Perché La guerra non ha dei vincitori Questo secondo me è quello che ci sta dicendo Ubisoft Con questo videogioco La guerra non ha un vincitore né un vinto Si è tutti vinti Perché Emile Emile è dello schieramento vincente Emile è francese Anna è belga Anna è dello schieramento che vince Anche se il belgio ok non si è schierato Ma perché È stato Annesso Velocemente Nonostante siano dello schieramento dei vincitori Non c'è in nessuna parte del gioco Un momento in cui loro sono fieri di stare vincendo Anzi Emile in un certo punto si mette pure a bruciare tutte le sue decorazioni militari Perché Perché non ha un senso Non riescono a trovare alcun senso in questa barbarie Reciproca In questa barbarie reciproca di persone che non si conoscono e che si uccidono E che si uccidono in quantità I numeri vengono spesso sottolineati dalla Ubisoft Soprattutto penso agli ultimi capitoli Quando appunto parla di una battaglia di cui adesso non ricordo il nome Me ne scuso In cui ci furono 200.000 morti Più di 200.000 morti In una sola battaglia Cioè penso alle grandi città d'Italia Sarebbe Come un decimo Un ventesimo dell'intera Roma In una sola battaglia Tutta gente giovane E comunque dicevo Oltre alla grafica Il Superare i livelli Non è mai Troppo banale Ci sono dei livelli più facili Ok In cui magari bisogna ragionare di meno Forse quelle in cui bisogna schivare i proiettili con le macchine Però Ci sono sempre dei punti in cui devi fermarti Ragionare Riflettere Qual era la combinazione Aspetta devo tornare indietro Magari devo salvare prima un'altra persona Ci sono dei livelli anche abbastanza Non ostici Forse ostici è una parola un po' pesante Però In cui bisogna riflettere Ad esempio ricordo quello Nel Nel campo di Di arresto Diciamo di prigionia In cui finisce Carl Dove bisogna spostarsi in varie In vari edifici Per riuscire a recuperare gli oggetti E per poter recuperare l'oggetto finale Che poi alla fine sono quelle tenaglie Che sono nella stanza In cui sei davanti All'inizio Che però è bloccata da un oggetto Che ha bisogno di un'altra cosa Che ha bisogno di un'altra cosa E così a catena Bisogna girare Tutta la postazione Per riuscire a capire esattamente Dove andare a finire E quindi per questo Non banale Inoltre Ci sono dei passaggi Che hanno messo Richiesto anche a me Abbastanza tempo Tipo come quello Del Sollevamento Se avete seguito la serie C'è un punto In cui ho dovuto tagliare Perché ho perso davvero Tipo un'ora Non riuscivo a capire Come si dovesse passare A un certo punto E inoltre Anche alcuni oggetti Per essere trovati Mi hanno richiesto Parecchio tempo Due in particolare L'unico contro Che ho potuto trovare In questo gioco È secondo me Il fatto che È stato Tra virgolette Chiuso un po' in fretta Il fatto che Dovesse uscire Effettivamente E per forza Nel 2014 Per il centenario In occasione del centenario Secondo me Ha costretto la Ubisoft Nell'ultimo momento Ad accelerare un po' troppo Investendo meno In quello che è La ricerca e la correzione Dei bug E L'aggiunta di livelli Ricordo che La Ubisoft In origine Aveva Pensiero anche Di utilizzare Come personaggio Quel Quel Avviatore Canadese Che vediamo In alcune immagini Su Google E troviamo In un certo livello Quando c'è Freddy Che deve bombardare Con il proprio Cannone I cannoni Nemici E viene Indirizzato Appunto Da questo avviatore Che dice Ah di qua Ad essere in alto Su e giù Esatto Dove esserci anche Quel personaggio Ma non è stato messo Per mancanza di tempo E quindi E quindi appunto Questo è un po' Il contro Il fatto che Possono saltare fuori Dei bug Però Non rimangono Comunque pesanti Io per esempio Non ho trovato Ho trovato solo un bug Esatto Sì Una volta in cui Mi era sparito Il personaggio Però ho avuto Notizia da parte Di altri youtuber Per esempio Ho visto un paio Di episodi Di Surreal Power In cui aveva trovato Dei bug Che impedivano Proprio La fine del livello Erano dei bug Abbastanza Fondamentali Diciamo Per la riuscita Del videogioco Però comunque Ricaricando La parte del livello Si sistemava tutto Questa è la mia opinione Su Valiant Arts Io vi invito A scrivere Nei commenti Quello che Ne avete pensato voi Di questo videogioco Che secondo me È un videogioco Che sono orgoglioso Di aver giocato Che sono orgoglioso Di aver Preso Che sono orgoglioso Di aver portato Sul mio canale Io vi ringrazio Per la visione Vi invito A iscrivermi A lasciare A iscrivermi A iscrivermi A lasciare un mi piace A cercarmi su facebook Il link È qui in descrizione Ci vediamo Al prossimo video Ci vediamo lunedì Con una nuova serie Che sarà sempre Con i giorni Del lunedì E il giovedì State sintonizzati Ciao 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 Grazie a tutti.